Comperenza stampa del neo allenatore dell'Acragas, Nicola Le Grottaglia, alla presenza del giocatore brasiliano, il centrocampista Bruno Vicente. Il debutto in campionato avverrà contro la squadra del Matera, ma questa volta l'allenatore che ha giocato in grandi club come Juventus, Milan e Catania sarà in panchina per il suo primo debutto in campionato. Le Grottaglia ha dichiarato che non conosco le squadre della Lega Pro, ma respirerò la sua aria e noi ci stiamo preparando a svolgere un buon campionato, cosciente però che l'Acragas è una mina vagante per tutti. Le Grottaglia ha anche dichiarato che le squadre che giocheranno con l'Acragas suderanno tutte e io gioco per vincere. La gara è difficile, la gara con ritmi alti, la gara con una squadra proiettata a vincere il campionato, con un ambiente molto caldo, allenatore ambizioso, società ambiziosa, giocatori forti per la categoria. Bello, un bel test, finalmente arrivano i test che contano e non vediamo l'ora di iniziare questo campionato. E all'esordio che squadra preparerà e come affronterà questo nuovo campionato? L'affronterò con i miei principi, con i principi che ho dato alla squadra e che spero possano essere già praticati nel breve tempo possibile. Quindi andiamo lì con la nostra idea di calcio, con il nostro voler far bene e poi vinca il migliore come sempre. Noi cercheremo di dare il massimo e di onorare la maglia come è sempre stata la nostra idea. Dopo 34 anni diceva lei una bella responsabilità. Sì, bella responsabilità, ma si cresce, con le responsabilità si cresce. Io sono padre da pochi mesi, posso dire che quando hai un figlio diventi responsabile, diventi più maturo. Quindi anche il lavoro è così, ti danno una responsabilità e cresci come uomo. Vista, lei puntava il dito sulle strutture che mancano qui nella nostra città e faceva anche un appello affinché il campo possa essere di nuovo della città e vivere per la squadra, per tutti i tifosi. Ma so che il Comune si sta dando da fare. Il mio appello è quello che le istituzioni che devono dare delle deroghe e tutto il resto possano venirci incontro e possano aiutarci a coronare il sogno di questi tifosi. È anche nostro di poter giocare nello stadio nostro perché casa nostra è qua e noi vogliamo andare troppo tempo fuori a fare viaggi. Viaggiamo molto in trasferta ed è un peso incredibile. Abbiamo 12-13 ore di pullman ogni trasferta. Andare anche in casa in trasferta sarebbe anche per noi un massacro e in più per i nostri tifosi. La città vi ha accolto bene, la festa è riuscita, è contento, può essere di sprone per affrontare la Lega Pro? Io credo che in un ambiente così da altre parti si fa fatica ad averlo. Quindi i miei giocatori devono essere bravi a cogliere questa occasione perché non succede così da altre parti. Quindi loro devono capire che è una grande opportunità sia per chi ancora non è riuscito a fare il salto come giocatore e anche per chi ha una certa età e vuole ancora ritagliarsi un po' di spazio nel mondo del calcio. Quindi ci sono un mix importante che se loro riescono a cogliere sarà una bomba interessante. Paragonava Cristaldi a un giocatore alberghese, a un giocatore del Catania? Sì, per attaccamento alla maglia, per attaccamento al gioco, per la sua intensità, la sua voglia di lottare su ogni pallone. Rivedo lui, più piccolo, con forse anche un pochettino più tecnica, però veramente siamo contenti di averlo tesserato perché ci darà una grande mano. Dopo una difficile estate il rischio slittamento, scongiurato solo tre giorni fa la Lega Pro riapre i battendi e lo fa questa sera con il match di anticipo al Torre di Pagani, dove Paganese e Foggia si affronteranno nella prima giornata del girone C. Sette squadre sotto zero prima del Via. Il 40% dei club del girone di Lega Pro partirà con una penalizzazione. A livello di giustizia sportiva è da quantificare ancora la penalità del Catania relativa al calcio scommesse. In questo momento sono nove punti in meno per gli Etinei, che hanno presentato un nuovo ricorso, mentre certa quella del Matera di due punti, per la tendata a combina in danni del Tarando, addirittura risalente un anno e mezzo fa. A livello economico un punto in meno anche per Benevendo, Ischia, Lupa, Castelli, Martina, Paganese, che hanno presentato la fiduciazione in ritardo. Il numero potrebbe addirittura aumentare dal momento che sul Lecce pende un'accusa di Palazzi relativa alla gara con la Lazio del 2011. Tre punti la richiesta. E l'Acragas debutta domani alle 15 sul campo del Matera, ossia una delle squadre meglio attrezzate del campionato guidata da Dionigi. Una squadra a quella materana che nelle amichevoli estive è stata una sorta di ammazza grandi, visto che ha battuto il Crotone e il Bari che militano in 0-B. Per i Biancazzurri di Nicola Legrottaglie un inizio difficile quindi. Eppure in casa Biancazzurra c'è molto ottimismo. La squadra d'altronde è di primo ordine, anche se serve ancora un attaccante di peso, dopo che tramontata l'ipotesi di vestire di Biancazzurro, l'ex Chievo ha bruscato. Chiavi del centrocampo affidato a Sergio Almiron, ma una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Legrottaglie e Bruno Leonardo Vicende che ieri si è presentato in conferenza stampa. No, il mio impegno è sempre quello, se il miss scegli di mettermi in campo dal primo minuto e dar tutto per la maglia e provare a vincere. Quello è l'obiettivo del calcio. Quindi sappiamo che andiamo a affrontare una buona squadra, una squadra che ha fatto molto bene l'anno scorso, che hanno ottenuto comunque dei giocatori dell'anno scorso, però andiamo là per fare la partita, insomma. Come tutte, tutte le partite dobbiamo affrontare con l'obiettivo di vincere comunque. Diceva il mister che per le altre squadre incontrare l'Acragas sarà una bella avventura e tireranno fuori le unghie. Lei è d'accordo? Certo, è certo. Lavoriamo per quello, lavoriamo per arrivare alla domenica e fare il meglio e comunque mettere le altre squadre in difficoltà. In poche parole è così. Dovranno sodare un po', sì, per giocare. È piaciuta l'accoglienza che avete avuto dalla città, dai tifosi, da tutta la gente che era in piazza Capur? Sì, sì, infatti voglio pure ringraziare i tifosi e la gente che è stata lì, perché ho già partecipato di altre squadre, c'è nella carta un po' più di nome come Padova e anche lì c'era il calore, però io qua mi sono trovato molto bene, c'è davvero un calore impressionante. Grazie a tutti.